Ciao a tutti, sono Luca Ceria, preparatore atletico della squadra agonistica della Board2Fight. Oggi vedremo degli esercizi sulla forza esclusiva con uno dei nostri atleti di punta, che è Fabio Ambrosini. Vai Fabio, 3, 2, 1, vai! Vedremo l'esercizio della forza esclusiva, poi passare le plio push-up, sempre per il lavoro di una forza esclusiva, per andare a chiudere sempre plio pull-up. Il nostro recupero sarà di 15 secondi, per poi utilizzare l'attrezzo del kettlebell, una forma esclusiva, l'utilizzo della gomma, per poi chiudere con uno scatto. Fabio, 5, 4, 3, 2, 1, ninja, balzo. Prego, 3 American Wing, power. Ok, 3 flip. Prego, 1. Ok, giro, scatto, giro, scatto. Buono, stop. Sto facciando prima parte.